Secondo alcune indiscrezioni saremmo vicini alla vendita al pubblico degli straordinari Google Class, gli innovativi occhiali del colosso delle ricerche online, che permettono a chi l'indossa di avere informazioni aggiuntive su tutto ciò che li circonda grazie alla realtà aumentata. Venduti per la sperimentazione in numero limitatissimo a 1.500 dollari lo scorso 15 aprile e basati su un sistema operativo Android, i Google Class sono compatibili con ogni smartphone dotato della tecnologia Bluetooth. Sul lato destro della montatura è presente un touchpad per scorrere tra il menu e tra i contenuti. I Google Class sono inoltre dotati di fotocamera con sensore da 5 megapixel, un comparto audio a conduzione ossea, connettività Wi-Fi e Bluetooth ed una batteria che assicurerà autonomia pari a circa un giorno di normale utilizzo. Il dispositivo si comanda tramite ordini vocali oppure il touchpad inserito sul lato destro. Semplicemente usando la propria voce, chi l'indossa potrà effettuare ricerche su Google, visitare i siti web, leggere notizie online, controllare i social network, utilizzare YoungHat per avviare videoconferenze, mostrare ad amici ciò che si sta guardando in quel momento, telefonare, visualizzare messaggi e inviarne di nuovi, scattare fotografie, registrare video, condividere i contenuti sui canali sociali ed utilizzare Google Maps per ottenere indicazioni stradali. Inoltre sarà possibile identificare un amico nella folla sfruttando il riconoscimento facciale.